bene ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e questo è brand dutch su una porsche gtr le classi sono le gt3 proprio quelle che ci aspetteranno sabato prossimo le iscrizioni sono ancora aperte project car 2 per pc su pc meglio avete tutte le istruzioni su simdrivers.eu nel posto del post dedicato e intanto io me ne vado quasi di traverso serata organizzata da simdrivers.eu sotto richiesta di alcuni di voi ripetiamo un po quello che è la serata ginetta ma questa volta con le classi gt3 e io cosa faccio faccio un video proprio su brand dutch per mettervi l'acquolina in bocca ragazzi non potete mancare e sicuramente con il replay faremo un commento con un video dedicato sempre come l'altra volta era piaciuto quindi gara l'ultimo sangue qui ragazzi è quello che spero possa succedere in modo amichevole ovviamente sabato prossimo 24 marzo ragazzi non mancate iscrivetevi vi aspetto numerosi per farci due risate insieme ovviamente la prima gara sarà di circa 30 minuti ma poi per chi vuole rimanere potremo provare altri combo qui su project cards 2 per pc quindi ragazzi se l'idea vi piace e volete iscrivervi non esitate a farlo su simdrivers.eu se questo trailer previev chiamiamolo così vi è piaciuto lasciate un pollice in su un commento che è sempre gradito e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale ma anche alla serata del 24 marzo prossimo e ricordatevi di attivare la campanellina per essere notificati quando pubblico un nuovo video noi ci vediamo a questo punto sabato e al prossimo video da Fabrice è tutto ciao